Ragazzi oggi vi porto la reaction al primo giocatore del mondo ad aver sbloccato la materia oscura di Call of Duty Black Ops 6 Ovviamente ragazzi stiamo parlando di Skull Face, sicuramente molti di voi lo conosceranno per i vari tornei di pro player di Warzone Infatti lui ha vinto il solo YOLO di Warzone 2 e adesso ragazzi in solo due giorni dall'uscita del gioco ha già sbloccato la materia oscura E l'ha fatto in 52 ore, praticamente non ha mai dormito nei primi due giorni per sbloccarla E adesso ci fa vedere una partita per vedere la mimetica in game ragazzi che è davvero davvero molto bella Quest'anno a differenza dell'anno scorso ragazzi per sbloccare la materia oscura ci vuole un po' più di tempo perché non è che sia più difficile Soltanto che ci sono i 100 colpi dalla testa da fare in quasi tutte le armi Quindi più o meno per fare un oro di ogni arma ci vorranno un paio d'ore ad arma Quindi diciamo che in 50-60 ore la potete sbloccare Per farlo ragazzi colpi dalla testa io vi consiglio di giocare su veterano perché è più facile Con un colpo alla testa la maggior parte delle armi uccidono quindi lo farete molto più rapidamente E adesso ci fa vedere questa partita E poi a differenza dell'anno scorso ragazzi quest'anno a parte i 100 colpi dalla testa bisogna fare la mimetica oro La sfida per la mimetica oro La sfida per il diamante Poi la sfida per il dark spine che in passato avrebbe sbloccato la materia oscura Invece quest'anno bisogna fare anche la sfida della materia oscura finale per ogni arma Allora ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale perché sicuramente sul canale qui farò uscire la guida completa arma per arma Per sbloccare la materia oscura perché abbiamo i 100 colpi dalla testa Poi le due mimetiche speciali che le sfide cambiano arma per arma E poi per il resto sono tutte uguali Per loro il diamante, il dark spine e la materia oscura Finalmente dopo questa partita sicuramente Skull Face potrà andare a farsi una doccia 52 ore di fila da giocare Call of Duty Black Ops 6 per sbloccare la materia oscura Ricordo del mondo, il primo al mondo a sbloccarla Che il gioco è uscito il giorno 25, il 27 già aveva la materia oscura Fatemi sapere nei commenti ragazzi cosa ne pensate di questa materia oscura Se anche a voi vi piace Se già la state sbloccando, a quanti ori siete arrivati già Sì 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 Ovviamente quest'anno ragazzi non c'è bisogno di livellare l'arma per sbloccare le sfide delle mimetiche Quindi Molto più facile Andate lì E vi fate soltanto le kill Quindi come vi ho detto prima ragazzi andate Su veterano Sulle mappe piccole Faccia a faccia E potete farlo Potete farlo rapidamente così Diciamo un paio d'ore per arma Sotto 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 Notiz Sotto Sotto potete sapere nei commenti anche cosa ne pensate del nuovo movimento praticamente stanno giocando in 6 contro 3 questa partita torfield knife all'indietro qui è bella kill ovviamente ragazzi il mese prossimo uscirà anche il nuovo warzone con la nuova mappa di ritorno vedo l'ora vedere come sarà il nuovo warzone con questo nuovo movement l'omni movement prende due alle spalle qui qui e non vedo l'ora ragazzi che esca il nuovo Warzone per vedere tutti i tornei di questi pro player nel nuovo Warzone in questo nuovo movimento con B4Shift di Isoca questo non l'aveva visto che stava nell'angolino grazie a tutti get out of here oh ciao 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 ciao